Va bene, io mi sono svegliato presto prima di andare a scuola, ho lasciato Matteo a casa e ora vado a fare una passeggiatina qua al parco. Uh, c'è un bambino! Ehi bambino! Chi? Ciao bambino! Ciao! Ciao! E come ti chiami? Eh? Non sai il tuo nome? Eh, mi dispiace, ma parli, sai parlare te? Bambino? Sì! Ah, perché, cosa stai facendo? Perché ti arrampichi? E allora perché non ti sento a volte? Eh... Vabbè, insomma, come ti chiami? Dicevo, dai, trovati... Cioè, ce lo dovresti avere un nome, teoricamente. Scusa, ridimmelo, non ho capito! Pandulus! Eh, ma ti cambia la voce? Vabbè, lasciamo stare, ok, va bene Pandulus. E... senti, eh... ma lo... te vieni... anche te vieni a quella scuola laggiù? Sì! Bene, e quindi conosci anche i professori? Sì! Bene, e... senti, aspetta un secondo, eh, arrivo subito, un attimo, che scendo un attimo, arrivo subito. Ecco, eh... Pandorus, posso chiamarti semplicemente Panda? Sì, sì. Ok, guarda, questo è il mio gattino Giorgio. Ma non si chiamava Giorgia? No, si chiamava Giorgio. E poi, ah, beh, perché te... Ma quella... ma quella signora non si chiamava Giorgia? Ah, beh, ma non c'entra niente quella storia. Dai, ma perché pensi sempre... vabbè, insomma, vabbè, lasciamo stare. Però è un maschio, va bene, quindi... Ok. Eh, ma... Sì, sì, aspetta... Sì, sì, aspetta un curo, hai controllato? Sì, sì. Eh, sì, ho controllato... teoricamente ho controllato. Vabbè, insomma, non pensiamo a queste cose. Vieni, andiamo a fare una passeggiata? Sì. Porto anche Giorgio, vieni, vieni. Allora, ti faccio intanto vedere un po' tutta la città, perché credo che te sei nuovo. Sì. Ah, ok, allora, allora, guarda, qui c'è la mongolfiera, dove puoi fare i giri per andare al castello volante, e che poi puoi comprarti le pozioni che ti ingrandiscono la testa. Qua ci sono i regali di Babbo Natale in costume. Qua c'è il negozio dove si comprano le cose per i bambini. Sei? Ok, sì, sì. Qua poi qua c'è dove ho adottato Giorgio. Qua c'è il negozio di animali. E poi qua c'è la scuola, che a quest'ora dovrebbe essere chiusa, però io credo... Cioè, chiusa nel senso che non c'è nessuno. E vabbè, facciamo che viene pure Giorgio, ok? Vieni. Allora, la scuola dovrebbe essere aperta, però c'è soltanto il preside. E il preside ci ha fatto amigizia, quindi dovrebbe dirmi che posso stare. Signor preside? Ehi, dimmi! Perché sei qui a scuola a quest'ora e presto? Eh sì, lo so, ma volevo far vedere a questo bambino che si chiama Panda tutta la scuola. Va bene, va bene, fannelo vedere, ma poi torna a casa, mi raccomando. Ok, signor preside, insomma, allora vieni. Qui c'è la classe, dove qui scriveranno tutte le cose i nostri professori e tutte le cose varie. Poi qui ci sono tutti i banchetti. Poi di qua c'è per allevare i cani, i gatti, insomma tutti gli animaletti. Poi di qua c'è la sala dei professori più la sala del preside. Ehi, non entrano nella mia sala! Ah, scusi signor professore. E poi di qua c'è l'aula di informatica. Ok. Che è meglio spengere tutti i computer. Bene, abbiamo finito tutto il tour. Adesso possiamo andare via. Andiamo, vieni. Ci sei? Panda? Ok, vieni, andiamo, andiamo. Qui ci sono. Andiamo. Allora, poi qui c'è il ponte, dove si passa per andare a scuola, insomma nel centro città. Poi, qui c'è... Non so di preciso cosa sia quella cosa, però è una struttura che non ci sono mai andato e quindi... Oh, si è fatta notte! Ma come? Scusa che era presto. Vabbè, insomma, questo giorno, questa vita in questo mondo è strana, però vabbè. Ora sono pure il mio gattino. Dove vai? Al campeggio. Ah, sai già dove è un campeggio? Aspetta che adesso faccio... Sì. Allora faccio una cosa. Bene, allora non sei... Cioè, sei nuovo, però sei già qualcosina. Bene, adesso anch'io prendo la mia bici che mi ha dato Matteo, perché sai, mio padre è un padre adottivo, è un prete e ha una bici tutta nera che però lui mi ha dato pure quella versione piccola a me. Sai, mio padre dice sempre che quando si va in bici, si va a giro, bisogna sempre cantare una canzoncina che fa... Nananananananananananananananananananananananananananana... Ma è bruttissima! Lo so, è brutta, però a lui gli piace, quindi vabbè. Insomma, buonanotte comunque, eh. Buonanotte. Bene, adesso dormo anch'io. Bene. Non si usa con i cigari. Ah, ah, scusa, scusa, ma stai calmo e fammi finire di dormire. Ok, basta, non vuoi più dormire, mi sono annoiato, vabbè. E adesso che facciamo? Ti ho fatto vedere un po' la città. Ah, ti devo far vedere un'altra cosa, guarda, guarda cosa mi ha regalato un amico di mio papà che si chiama Lon. Guarda, eh. Dove ho visto questo... Non è un lanciarazzi. Non è un lanciarazzi, è un rampino. Uiii! Uiii, perché non mi fa arrivare lassù? Aiuto, non fugga. È un rampino tarocco. È un rampino tarocco, di sicuro l'ha comprato dai cinesi. Vabbè, dove sei andato, scusami? Ho trovato le cose della vita. Eh, ripeto, arrivo anch'io, un attimo. Ci sono le chitarre. Sei dentro questa casa? Uh, che bello, non ho mai visto questo potto. Una chitarra, però conta tanto. Costa tanto, io non... Per i raggi che si chiama. Oh, ma io non ho abbastanza soldi. Vabbè, io mi compro una torcia, allora. Perché una torcia la posso anche comprare. Guarda che bella. Andiamo a fare tutte le avventure. Andiamo, andiamo, dai, andiamo. Vieni, andiamo. Vabbè, aiuto. Eh, vabbè, ehm... In pratica ti ho fatto vedere tutta la città. Non manca quasi niente. Ah, casa mia, è vero. Non ti ho fatto vedere casa mia. Eh, vabbè, prendi la bici. Insomma, prendi un veicolo. Aspetta, eh? Mmh. Aspetta. Ok, quella è la mia casa. Questa qui sull'albero. Matteo ancora non lo sa. Matteo non so di piacere dove è andato. Credo sia andato al suo solito club per anziani. Però vabbè, vieni. Ti faccio vedere la mia casetta. È molto bella. Allora. Qua abbiamo la cucina con il salottino. Qua c'è un altro... Il bagno, il bagno. Qua c'è il bagno. Vabbè, fatti la doccia, vai. Chiudo. Ogni tanto ti spiego urlando. Qua poi c'è un puff. Poi qua c'è, aiuto, una pala di discoteca. Che mi sono comprato tutti i soldi. Dimmi. No, no, niente. Ok, mi sono comprato tutte queste cose con i soldi di Matteo. Poi qua c'è la mia cameretta. Che ho pensato pure a Matteo. Ho messo un lettino. E Matteo, ora, te l'ho detto, è andato al suo club per anziani. È fuori città, è andato via. Dovrebbe tornare... Dovrebbe tornare tra poco. Perché tra poco io devo anche andare a scuola. E quindi... Vabbè, insomma, io tanto mangio. Che ho anche fame. E vabbè, ti ho fatto vedere un po' tutta la casa. Io direi che adesso, visto che io voglio un altro pochino riposarmi, devo farmi anche la doccia. E quindi, sai, mi riposo un pochino qua. Aspetto Matteo che torni, così poi vado a scuola. Vieni anche te oggi a scuola? Panda? Sì. Ah, vieni anche te? Bene, sono contento. E quindi... Quindi, ciao, va bene? Cioè, magari devi andare via te, però. Io lo so. Aspetta, mi sto cambiando. Ah, scusa, non lo sapevo. Scusa, scusa, non volevo disturbarti. Vabbè, io intanto aspetto qui. Sì, spero che torni presto Matteo. Quanto ci mette quello a cambiarsi? Ah, ecco, ok, si è cambiato. Ah, bello, bello. Perché ti sei messo questa maschera? Eh, perché aspetta, la devo cambiare. Fai paura, no, ho paura, aiuto, ho paura, no, no, ho paura, ho paura. Cambiati la maschera, guarda, io vado fuori, però te esci. Eccomi, eccomi, fatto. Va bene, andiamo, forza, vieni, vieni, vieni. Vai, esci, vieni. Opla, esci. Sono proprio in India. Vieni, vieni, esci, adesso però io devo andare su perché devo anche studiare due cose, l'alfabeto greco che è alfabeta, gamma e delta, son bravissimo. E poi devo imparare anche cosa vuol dire l'IM, lavagna interattiva multimediale. Però vado a studiare. Bene, ciao. Va bene. Ciao. Ciao. Com'è strano questo bambino, parla pochissimo, vabbè. Io spero che arrivi presto Matteo così posso andare a scuola, non vedo l'ora.